Allora è già iniziata la valutazione da parte dei giurati proprio per decidere qui di decretare per la sala delle barbezioni più belle di questa serata, a tanto musico li ringraziamo e li presentiamo, sono già al lavoro quindi stanno già valutando quelle che sono le barbature più belle quindi iniziamo a salutarvi e ringraziarvi Carlo Bonincontro, Franco Cicero, Marianna Buscema, Jennifer Bonincontro e Maria Carmela Micci che sono loro appunto che decidiranno quali sono le barbature più interessanti e più lo vedevo io appunto questa sera, io volevo sapere se c'era qualche persona non di Scipri quindi comunque non del posto che aveva qualche domanda da fare, qualche curiosità a tal proposito la valutazione precede se non la possiamo sfruttare 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 se non la possiamo sfruttare